ciao a tutti amici io sono franco versa e avete visto questa semplice ma carina intro perché perché su da vincere solve 18.5 tra le tante novità abbiamo anche quella della compatibilità con i file 3d usd che non è altro che l'abbreviazione di universal scene description questi file sono un formato 3d che è stato sviluppato niente po po di meno che è dalla pixar animation studios questi file memorizzano importanti dati stratificati tra cui ci sono le geometrie nei nostri oggetti la mappatura uv le ombreggiature addirittura le animazioni e anche altri dati di livello e superficie in pratica in un unico file avremo tutto il contenuto della animazione o del modello che è stato realizzato e questo semplifica tutta la vita perché sarà possibile creare e comporre scene in modo anche collaborativo ma andiamo a vedere cosa vuol dire questo per noi in fusion di da vincere sol ripeto 18.5 bene innanzitutto partiamo con dover avere un modello usd in internet se ne trovano e se andiamo sul sito dell'invidia possiamo vedere che anche loro con le loro schede grafiche descrivono questi tipi di file e possiamo trovare addirittura delle scene messe a nostra disposizione come questa qua nvidia usd static dove abbiamo centinaia di elementi che possono essere importati con luci materiali eccetera in un colpo solo bene anche il programma gratuito di grafica 3d blender ha la possibilità di esportare questo tipo di file quindi ho importato un file che è fbx e anche un'animazione eccolo qua e ora proviamo a esportare l'intera scena quindi vado a sottolineare tutto e andiamo su esporta e usd come abbiamo detto facciamo attenzione a spuntare anche animazione e materiali mappe eccetera e andiamo su esport in questa maniera abbiamo anche convertito il formato dell'animazione in da vinci creiamo una new fusion composition e poi ci spostiamo in fusion qui non dovremo utilizzare i comandi normali del 3d ma se andiamo su effetti possiamo vedere che troveremo una nuova voce usd con nuovi nodi preceduti dalla lettera u questi qui sono nodi che dobbiamo utilizzare al posto di questi diciamo che sono quasi una replica con nuove funzioni però abbiamo bisogno di un u loader oppure semplicemente andiamo si media e importiamo la nostra scena anzi così verrà riconosciuto il tipo di file automaticamente perché di file usd ce ne sono di tre tipi andiamo a prendere il file ragazza corre e lo importiamo e trasciniamo questo qui vedete che è stato aperto un nodo u loader se premiamo uno possiamo già visualizzare la nostra scena e come vedete abbiamo già materiali luci tutto quello che abbiamo esportato se mettiamo in play vedremo anche proprio l'animazione come avete visto ecco qua quindi in un nodo solo abbiamo importato tutto ciò che ci serve ora continueremo con la programmazione come facciamo di solito con l'aggiunta del merge la telecamera e anche il render come detto dovremo utilizzare tutti i nodi con la u li troviamo anche sempre premendo shift barra spaziatrice abbiamo i nostri nodi vedete ecco ad esempio qua abbiamo un camera beh inseriamola è venuto già l'umerge se no altrimenti basta scrivere un merge e clicchiamo e cerchiamo un render eccolo qua e deve essere posto alla fine attenzione che i nodi fra loro non sono compatibili per cui se cerchiamo di inserire questo tipo di nodi in questa programmazione non si agganceranno quindi ora possiamo vedere fuori ad esempio qui il merge per vedere la scena con anche la camera sovrapposta e qui possiamo visualizzare su due il render ovviamente non si vederà niente perché come vedete la camera indietro ora mi allontano e potrò vedere ciò che sto inquadrando attenzione a una cosa che sullo render come comunque era anche prima c'è il settaggio della camera abbiamo un default una camera che può corrispondere a quella della scena e la nostro nodo camera quindi mettiamo camera ecco quali inquadruttura che in realtà stiamo realizzando come vedete all'interno del nodo non possiamo andare a modificare ciò che abbiamo fatto prima quindi è importante che ciò che abbiamo fatto prima sia corretto dal punto di vista luce eccetera ma potremmo andare inserire nuove luci all'interno del merge quindi cerchiamo ad esempio sempre con più abbiamo distant light è una luce direzionale che semplicemente ci fa vedere da che direzione arriverà la luce come vedete l'avevamo anche nel render normale sempre quindi la colleghiamo anche su questo tipo di luce possiamo ruotare la direzione ovviamente anche questo va deciso sul render come vedete le luci abbiamo no quindi sarà senza luce camera e sin sin ora avremo questa questa luce qua vedete ecco qua che possiamo andarla a modificare ovviamente anche come colore eccetera eccetera intensità esposizione abbiamo anche un diffuse sul materiale e un specular per decidere la la riflessione della luce a questo abbiamo anche altre altri tipi di luce cilindro disco dom che è una cosa molto particolare che adesso vedremo proviamo a inserire un disco che corrisponde quasi uno spotlight eccolo qua e con questo come vedete possiamo scegliere un ampio raggio del cono e quindi illuminare bene la scena sulle proprietà di questa luce ovviamente potremmo decidere oltre l'intensità l'esposizione colore anche il cono eccolo qua vedete e come vedete in un attimo abbiamo potuto ottenere di importare un animazione già risposta con uno o più elementi se volete spostare ulteriormente questi elementi vi consiglio di inserirli e uno a uno perché se li avrete tutti all'interno del loader non potrete scendere questo per per poi muoverlo per muovere il loader sarà sufficiente inserire un altro u merge e con questo come vedete da transform possiamo spostare il nostro oggetto ruotarlo ulteriormente e anche scalarlo ecco un altro esempio dove abbiamo un nodo loader che sta caricando il robot con tutti i materiali le luci eccetera un altro il loader che sta caricando una tazzina inoltre vedete queste luci che ci sono ad esempio sulla tazzina colorate sono dovute a questo nodo u dome light questo nodo alla particolarità di poter caricare un texture file che sarà quello che proietta le luci sulla scena in questo momento avevamo caricato una texture se ad esempio andiamo a caricare una testo questa del cielo ecco possiamo vedere come ora tutti i riflessi sono dovuti a quella luce abbiamo una specularità del materiale ora vedete la tazzina che riflette molto e poi anche un diffuse e vedete che stiamo vedendo proprio le nuvole attraverso questo che poi si può anche ruotare per cui ecco gli effetti che possiamo ottenere ovviamente questo può essere anche inserito come background per cui vedete che meraviglia senza particolari luci possiamo già gestire oltre tutti i materiali della scena anche questo tipo di riflessioni un'altra cosa è al posto dello shape normale abbiamo ovviamente un u shape che possiamo sempre collegare qui andiamo a vedere un attimo la scena 3d per spostare questo questo materiale eccolo qua eccolo qua in questo momento l'oggetto shape è capsula perché abbiamo nuovi oggetti rispetto a prima che avevamo il cubo il cilindro come vedete anche abbiamo questo è capsula nuovo anche questi hanno gestione diversa perché ad esempio se noi mettiamo una sfera andiamo a ingrandire la sfera portiamola anche a 20 eccolo qua abbiamo le suddivisioni la sfera e abbiamo su materiale una serie di materiali sempre inerenti a questo tipo di render quindi possiamo avere la possibilità di metallico con una rugosità o vedete anche guardate che bella la luce adesso che ho abbassato la rugosità e il materiale diventa più speculare e quindi possiamo andare a interminire sugli altri controlli che regolano anche l'opacità eccetera e anche questo appunto potremo far riflettere il materiale circostante con ad esempio metallico metallic ecco qua alziamo il valore di metalli e poi oppure abbiamo la specularità e lo stesso qua abbiamo una rugosità del materiale come vedete e tutta un'altra serie di parametri con i quali possiamo andare a sistemare ulteriormente il nostro materiale e tante tante luci che non avevamo prima come ad esempio questo pannello rettangolare e ovviamente con il quale possiamo abbiamo tutti i controlli quindi diciamo che con questo render ovviamente il robot è in animazione eccolo qua per cui vedete in pochissimi secondi riusciamo a costruire scene molto complesse e che portano dietro anche tutte le caratteristiche come abbiamo detto dei materiali texture proprio definizione dei nodi dei materiali ovviamente come prima una volta renderizzata la scena può essere unita anche a 2d quindi se io ad esempio qua vado a unire un background con un gradiente ecco qua composta la mia scena e posso aggiungere altri elementi 2d come facevo prima e poi ovviamente ritrovare tutto nella edit page ecco qua guardate che meraviglia bene questa era solo un'introduzione a questi nuovi comandi e poi man mano vedremo anche tutte le altre caratteristiche di questa nuova possibilità io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e cliccare sulla campanella se volete essere avvisati quando posto un nuovo video e noi ci rivediamo ciao a tutti ciao a tutti